ciao a tutti ragazzi qui è zio degli animali che parla in questo video andremo a vedere come allevare un altro insetto da pasto e stiamo parlando della blatta dubbia allora adesso vi faccio vedere io come ho allestito il piccolo allevamento questa blatta è molto simile a la blatta lateralis che già vi ho fatto vedere però diciamo che forse è un pochino più delicata però al vantaggio che raggiunge dimensioni più elevate quindi si potrà dar da mangiare da animali più grandi e al vantaggio che passa da i piccoli che sono proprio minuscoli a diventare grandi così quindi riproducendo le si avrà un range di prede per tutti gli animali quindi per i baby animali di media taglia come può essere un cerco leopardino per poi passare agli adulti per dargli ad esempio ai draghi barbuti queste qui sono allora le blatte dubbia sono un po quelle che fanno vedere nei film tipo nelle fogne americane sono delle blatte molto grandi come potete vedere ce ne sono di tre tipi diciamo così questi qua con le ali sono i maschi queste qua nere così vedete che proprio è proprio scura queste sono le femmine invece queste qui marroni così sono diciamo ancora in fase di sviluppo quindi non sono ancora col dimorfismo sessuale che si vede quindi non si può ancora capire se un maschio una femmina questa qui comunque un certo punto farà la muta e diventerà o un maschio o una femmina come colonia io vi consiglio di partire con più o meno 50 esemplari così da avere sia maschi che femmine bisognerà lasciarle un po lì perché devono prendere un po il via questo qua io come substrato ho deciso di provare ad usare la vermiculite che è la stessa che si usa per incubare le uova perché appunto ha un buon rapporto con l'umidità però al diciamo il pregio che non porta a muffe quindi nel caso ci sia un po di umidità un po di sporco comunque tenderanno a non fare mai muffa le cose importanti sono appunto substrato una ciotolina come questa con del cotone o comunque una cosa simile impregnata d'acqua così loro possono andare a bere e dissettarsi come sempre i cartoni delle uova che fungono da nascondigli infatti come vedete sono sempre tutte qui dentro e poi bisognerà fornirgli del cibo io ho deciso per la prima volta di utilizzare proprio un mangime apposta per insetti adesso vediamo se riesco a nessuno qualcuno è tipo un pellettato piccolino molto nutriente che gli insetti andranno a mangiare questo si può usare anche per i grilli o per le blatte laterali se per dargli da mangiare insomma oltre ovviamente a integrare come sempre con un po di frutta un po di verdura o comunque un po di cose generali soprattutto con queste sono onnivore quindi adesso per assurdo una sera mangiate il petto di pollo vi avanza un pezzettino potete metterlo in una ciotolina e darlo a loro che sicuramente se lo mangiano essendo onivore hanno il pregio che potete decidere voi come alimentarle di conseguenza come andare a nutrire i vostri rettili se ad esempio pensate che il vostro drago barbuto abbia una carenza di vitamina potrete fornirgli tanta tanta frutta tanta verdura in modo che loro assimilano queste vitamine poi dandole da mangiare ai vostri rettili il rettile di conseguenza assorbe queste vitamine se invece volete dargli proprio una bella bomba di proteine potete dargli un po di carne oppure anche le crocchette per cani o per gatti le sbriciolate andranno a mangiarle e loro di conseguenza andranno ad assimilare tante proteine meno male non c'è molto da lavorare dietro questo tipo di allevamento è un animale che si riproduce abbastanza in fretta le femmine partoriranno una volta al mese circa un da 20 a 30 neanidine ma saranno proprio una cosa minuscola che eventualmente consigliano di separarle però visto che un lavoro abbastanza noioso prendere ste cosine piccole spostarle io penso che si possano lasciare qua magari qualcuna ne muore ma comunque riuscirete ad avere una cosa abbastanza naturale senza lavorarci troppo dietro di conseguenza voi potrete avere tanti tipi di taglie diverse quindi se avete dei baby potete dargli le neane di appena nate o se avete un gecko leopardino piccolino potete dargli quelle un po cresciute insomma avete un ottimo range di dimensioni ricordatevi che è un animale che cresce abbastanza lentamente quindi è una cosa abbastanza lenta per avere un allevamento molto rapido dovreste avere una quantità enorme di insetti quindi adesso queste qui essendo una cinquantina non hanno bisogno cioè io adesso queste non le userò per almeno un mesetto in modo da iniziare ad avere una produzione questa qua si è capottata tenetele al caldo se riuscite a 30 gradi loro sono al massimo della produzione quindi saranno molto più veloci ad esempio una neonide per diventare adulta quindi matura con le ali o tutta nera così ci metteranno 3 4 mesi se invece le tenete a temperatura ambienti quindi intorno ai 22 25 gradi ci metteranno più o meno il doppio del tempo gestitela voi come volete nel caso mettete un tappetino sotto molto semplice come già vi ho detto è una cosa abbastanza semplice ve lo consiglio perché un ottimo risparmio perché queste blatte non sono economiche quindi andare sempre a comprare può essere una spesa abbastanza grande spero di essere stato abbastanza chiaro e di aver rispiegato tutte le cose importanti e ci vediamo nel prossimo video